Rieccoci in studio, tutto pronto per il concerto dell'Avvento, oggi particolare in una conferenza stampa. La soprano lirica Ilaria Gusella e Roby Borillo dei Los Locos. Bellissimo, tra l'altro, io sto girando tutti i teatri con Maurizio Battista con cui sono in torneo in questo periodo, l'abbiamo fatto dall'Ariston al Goldoni a teatri tutti bellissimi in Italia e non avevo ancora fatto il Teatro Comunale di Vicenza, per cui questo per me è un battesimo, per me è un battesimo, è la prima volta al Teatro Comunale, bella storia. Grazie agli undici eventi passati abbiamo portato in teatro 9.500 spettatori e aiutato 2.700 giovani in difficoltà in sette nazioni diverse, ha detto il direttore di Muriado World Alessandro Pellizzari. La serata è imperdibile, i posti ancora liberi a teatro pochissimi. Le persone che hanno il programma in mano da qualche settimana tengono presente che lo devono capovolgere, girare, cambiare, perché sarà sempre pieno di sorprese. Quello che c'è scritto faremo qualcosa di quello, ma il bello è inventare al momento cose particolari. Poi ospiti che abbiamo, se avete letto è già anche questo che porterà un successo questa serata e poi tutte le altre cose che faremo. Quindi grande successo!